In questo video andremo a vedere Calibre e alcune delle sue funzionalità. In modo particolare andremo a vedere la condivisione, uno strumento molto interessante per creare una propria libreria digitale e anche rendere disponibili tutti gli ebook che noi andremo caricare in questo sistema, disponibili per tutti i device che sono collegati nella nostra rete. Intanto Calibre è un software libero, ci dà la possibilità di accedere al codice sorgente, possiamo ridistribuirlo, possiamo partecipare anche allo sviluppo, le classiche libertà che ci dà questa tipologia di software. È multipiattaforma, infatti è disponibile per Windows, nel caso di Windows abbiamo anche la versione a 64 bit e la versione portatile, quindi che non necessita di nessun tipo di installazione e che potremmo andare a mettere su una chiavetta USB per portare con noi sempre i nostri i nostri libri. È disponibile per macOS e per Linux. Prossimamente dovrebbe essere disponibile anche per i sistemi Android e iOS. Una volta che voi avete scaricato e installato Calibre potete fare diverse cose sui libri che voi andate ad aggiungere al software. Intanto non è semplicemente un gestore di libri, quindi non serve solo catalogare i libri che voi andate a scaricare. Non è solo un software che vi permette di leggere i libri su il computer, ma è molto di più. Allora, per quanto riguarda l'aggiunta dei libri è molto semplice. Abbiamo il pulsante Aggiungi libri e qui cliccando su Aggiungi libri possiamo andare a prendere un libro e aspettare un attimo e ci viene aggiunto. L'aggiunta dei libri può essere fatta o singolarmente o per cartelle o anche addirittura per archivi compressi, poi ci sono anche altre opzioni. Per ogni libro che noi andiamo a selezionare viene mostrata una anteprima, un abstract e le informazioni che riguardano il libro. Naturalmente queste sono tutte informazioni che vengono prese dai metadati dell'ebook che noi andiamo a inserire all'interno di Calibre. I metadati in realtà possono anche essere modificati sia singolarmente che a gruppo. Se io clicco su Modifica metadati si aprirà una finestra dove ci permette di andare a modificare o aggiungere eventuali informazioni che non sono presenti. Supponiamo di scaricare un PDF dove non vengono inseriti i metadati del titolo e dell'autore, noi possiamo andare in questo modo ad inserirli manualmente. Le varie informazioni, i vari metadati degli ebook ci permettono anche di classificare i nostri ebook in base alle lingue, in base agli autori, se andassimo a inserire le serie, i formati. In questo momento in questa raccolta che ho inserito dimostrativa abbiamo 15 libri in formato EPUB e PDF, poi abbiamo gli editori e così via. Possiamo anche andare a definire dei tag personalizzati per classificare ulteriormente la nostra raccolta. Tutte queste informazioni ci servono poi anche nella fase di ricerca dei nostri libri e anche nella parte di condivisione che vedrete dopo. Per quanto riguarda i formati è interessante il fatto che noi possiamo scaricare un ebook in formato come in questo caso EPUB, vedete, e posso andarlo a convertire. Anche qui posso fare una conversione di gruppo andando a selezionare i vari libri che voglio convertire oppure una conversione individuale. Nella conversione vedete che abbiamo il formato di input e il formato di output. Nel formato di output noi possiamo andare a scegliere uno dei formati supportati da Calibre. Avete ad esempio il formato di Amazon, abbiamo il docx, abbiamo il pdf, scegliamo il pdf, lasciamo tranquillamente le informazioni di metadati che già ci propone perché è un EPUB con una serie di metadati già inclusi, lasciamo pure l'abstract e semplicemente clicchiamo su ok. A questo punto vediamo che qui sta lavorando. Se noi facciamo un clic ci fa vedere cosa sta succedendo, quindi ad esempio prima ho convertito quattro libri, ci fa vedere cosa sta succedendo. Posso fermarli, posso andare a vedere i dettagli del lavoro e così via. Una volta che ha convertito vedrete che comparirà oltre il formato EPUB che avevamo prima, andiamo ad avere anche l'altro formato. Vedete che nelle informazioni qui c'è percorso, fai clic per aprire, faccio un clic, mi aprirà la cartella dove è contenuto il libro e qui vedete che effettivamente ho il formato pdf che abbiamo appena creato e quello originale che abbiamo caricato in formato EPUB. possiamo anche leggere direttamente il libro da computer perché al suo interno c'è un lettore, un e-reader, attendiamo un attimo che vada a caricarlo e qui poi con i pulsanti di scorrimento posso andare a leggermi il mio libro. Se siete abituati a utilizzare un e-reader le funzionalità sostanzialmente sono le medesime. Altre cose, come posso aggiungerli, posso rimuovere i libri, ho la possibilità di creare più librerie, quindi non solo la libreria che viene caricata, creata di default, ma posso creare ulteriori raccolte separate. Tutte queste informazioni poi le possiamo andare ad utilizzare per condividere i nostri libri. Se noi vedete che c'è connetti alla cartella, mi permette di andare a connettermi con un'eventuale cartella dove ho la biblioteca, dove ho tutti i libri salvati, in questo caso è già configurato, io posso cliccare su Avvia server di contenuti. Fatto questo, possiamo andare su un browser e andare a digitare l'indirizzo 127 001 8080, perché è su questo computer. Diamo invio e vedete che mi dice scegli la libreria calibre da sfogliare. In questo caso ne ho una sola, se avessi creato più librerie, più cartelle potrei scegliere a quale collegarmi. Clicco e vedete ecco qui i nostri libri disponibili. Libri che possono essere letti direttamente, vedete che c'è un leggi, oppure possono essere anche scaricati. Nel caso in cui scegliamo di scaricarli il sistema ci propone naturalmente il formato predefinito di scaricamento che era l'epub. Nulla toglie che però posso cliccare sul PDF e vedete cosa succede. Mi dice cosa vorresti fare con il formato PDF? Leggerlo o scaricarlo. Stessa cosa con l'epub. Quindi se clicchiamo su leggi prenderai il primo formato che andremo a utilizzare, oppure scaricamento, anche qui il primo formato. Poi naturalmente possiamo scegliere cosa fare. Se clicchiamo su leggi ci permetterà di leggere direttamente il libro online. Viene scaricato. Ok. E qui iniziamo. Poi possiamo iniziare ad andare a leggere il nostro ebook. È un e-reader naturalmente su una pagina web. Premendo un ESC sulla tastiera ci dà la possibilità di andare a vedere tutti i vari controlli che ci vengono resi disponibili. Ok. Quindi aumentare il carattere, mettere un segnalibro. Insomma per fare delle ricerche, andare avanti e indietro possiamo usare tranquillamente i pulsanti freccia sulla tastiera. Vedete che possiamo tornare alla biblioteca oppure volendo potevamo tornare alla pagina principale. Altre cose che possiamo fare con questa modalità di condivisione. Intanto fermiamo il server. Si chiama server perché in realtà rende disponibile un servizio in rete. immaginate di avere un computer, anche un computer che magari non utilizzate più. Avete una raccolta di libri. Immaginiamo anche in classe avete a disposizione dei tablet oppure volete semplicemente far usare anche gli smartphone dei vostri studenti. Potreste prendere un pc, anche il pc in realtà che utilizzate per la LIM e installare questo software. Caricare i libri e poi avviare il server. Possiamo anche andare a definire se noi andiamo in preferenze. possiamo anche andare a inserire delle preferenze, delle opzioni sulla condivisione. Clicchiamo su condivisione sulla rete e vedete che qui abbiamo diverse. Intanto abbiamo il start server che avevamo semplicemente là nei connetti e condividi. Possiamo abilitare una gestione con account. Mentre prima, avete visto, ho digitato 127.001.8080 e sono andato sulla pagina del mio server senza nessun tipo di autenticazione. In questo caso invece, se vado a mettere la spunta su questa voce, vado a richiedere lo username e la password per accedere ai contenuti del server. Posso anche eseguire automaticamente il server e l'avvio di caldo. Quindi appena avvio il server parte tutto. Gli eventuali account si definiscono in questa scheda. Posso andare ad aggiungere il nome utente, password e chiaramente ripetere la password. Ad esempio, inseriamo una password. Metto una cosa molto semplice, tanto per fare la prova. Ok. Applichiamo. Anzi, mettiamo richiedi. Applica. Ok. Naturalmente mi dice che è necessario avviare il server, ma noi il server non l'abbiamo ancora avviato. Facciamo avvia. È avviato. Perfetto. Andiamo sulla pagina. Riavviamo. Ecco qui, vedete che mi chiede l'utente. Inseriamo la password. Ok. Non è tanto semplice che era. Avevo comunque sbagliato. Entro con l'utente da password e a questo punto ho i miei libri di nuovo disponibili che posso andare a leggere come prima. Quindi posso anche utilizzare un'eventuale protezione sulla condivisione per far accedere solo determinati utenti. o che io mi chiede per far accedere solo e sbagliare anche sal provincesca, anche auto.